ok ragazzi eccoci qua in un nuovo video adesso andiamo a vedere quest'ultimo poster che abbiamo ed è sempre un poster vecchio da come mi sta sembrando e si questo è un poster italiano di un film vecchio è questo ragazzi eccolo qua sempre a tema Zorro ed è il giuramento di Zorro con Tony Russell, Maria Giovallo Alfonso e schermo panoramico prima edizione italiana Roma di Esalara 1982 fantastico poster il giuramento di Zorro fantastico ragazzi niente se ti piace commentate iscrivetevi al canale come sempre ci vediamo in un prossimo video ciao a tutti belli ciao